Buonasera, benvenuti al TG7 Basilicata. In occasione della festa del papà, la Polizia di Stato fa gli auguri a tutti i papà con una toccante storia raccontata nel cortometraggio medley di Santa De Santis e Alessandro D'Ambrosi, presentato in anteprima alla diciannovesima edizione del cortinametraggio e prodotto da Piuma Film e Vargo. Questo corto, interpretato dagli attori Mariano Rigillo e Valerio Morigi, narra l'incontro tra un giovane poliziotto e un anziano affetto da Alzheimer, intrecciando i loro ricordi personali in un racconto che celebra l'immaginazione, l'empatia e la capacità d'ascolto. Grazie a tutti! Grazie a tutti!